Buongiorno signor Arbora, intanto volevo farle i complimenti perché tra l'altro con lei c'è stato il picco di ascolto durante la sua performance. Una grande emozione, un grande tributo da parte della RAI e da parte nostra che veramente ci ha tanto emozionato. Grazie e se ci vuole raccontare qualcosa di più lei. Beh, non è una domanda, è una serie di complimenti che ci ha fatto, i complimenti di un in giro all'orchestra italiana. E' una sicurezza, noi da 23 anni, 23 anni giriamo il mondo e giriamo l'Italia, nord, sud, centro e isole, veniamo e con grande successo. Per la verità il riconoscimento per motivi tecnici, io parlo con alcuni che sanno benissimo, oggi si parla molto, prima della tournée, il giornale, la gazzetta del sud, fa il pezzo, arriva al Catanzaro, l'orchestra italiana, poi non si fa la recensione, è da anni che non ci sono più le recensioni. Quando ci sono le recensioni, come nel caso di Sanremo, si scrivono trionfo eccetera. E quindi noi siamo venuti a laurearci qui a Sanremo, ancora un altro esame che spero che abbiamo superato con... Lei non ha bisogno... Hai stato un pubblico molto generoso con noi, il pubblico di casa, io sono pieno di telefonati, di sms, di colleghi, sono molto importanti che i colleghi della musica, quelli che io stimo tanto, non voglio fare i nomi perché sembra di approfittare della generosità di alcuni grandissimi colleghi musicisti e cantanti famosi, miei idoli che mi hanno fatto dei messaggi oggi molto... e quindi ne sono molto fiero, molto contento.